Voi vi aspettavate di arrivare in finale? Assolutamente no. Nada di nada. Noi non ci aspettavamo nemmeno di arrivare ai live, quindi pensate un po' se ci aspettavamo di arrivare in finale. Questa finale secondo me sarà frizzante perché per me il forum è una cosa nuovissima che non mi sarei mai immaginato il fatto comunque di aver sempre visto i concerti dalla parte del pubblico quindi sarà una serata che probabilmente volerà però sarà abbastanza indimenticabile. Sicuramente questa finale la vedo come una sfida personale ed è suonare davanti a così tante persone in un palco così grande una grande festa tra tutti. La finale per me è la chiusura di un cerchio, è una festa, è uno show. Penserò veramente solo a divertirmi e godermela. Grazie a tutti.